sulle figure di panini, in conseguenza dovevi diventare calciatore oggi invece con le nuove tecnologie uno può diventare anche sulle figure di panini con i fotomontaggi, però quello è il problema poi dopo anticipo io mio fratello, non so se c'era qualcosa come Gabriele forse era spettatore in quel caso, lo anticipo perché tanto la dirà quindi la dico io, dico la mia versione poi dopo proseguendo, io ho cominciato a Giordito molto giovane, a 17 anni e quindi un giorno mio fratello e le nostre sfide erano sempre in seminario dove in seminario c'era preti contro parenti e quindi ero sempre contro e perdeva sempre e in quel caso lì c'è stata quella opportunità di poter giocare insieme allora lui che giocava al centroavanti era un po' come si suol dire un centroavanti un po' ignorante però faceva gol, no? no, non interroga, non prende neanche appunti guarda che ti anticipo così almeno irolento quindi devo anticipare le cose